Allora, il sabato, no? Il sabato, sabato 5 luglio 5 luglio, brava, tu ti tieni la rubrica a posto Sabato 5 luglio parte un festival un po' particolare, si chiama Lunatico Lunatico Festival, Lunatico Festival Un po' umorare, no? Cetti giorni un po' così, cetti giorni sta meglio Comunque Lunatico Festival, dove si trova? Allora, Lunatico Festival, al posto delle fragole, ex OPP, Parco di San Giovanni Dal 5 luglio, dal 5 luglio con i virtuosi al calcio E poi per tutto luglio, agosto, ogni martedì e ogni venerdì Dicei, sede, dibattiti, teatro, canale, concerti Poi si mangia, poi non sono quei luoghi che alle 6 chiudono la cucina Si può mangiare anche a ore... Aperitivi, birra, sottofondo di musica E tutto quanto, a parte gli aperitivi e la birra, è gratuito Gratuito, questo può essere un deterrente perché la gente so che preferisce pagare Però, in questo caso pagheranno E' uno sperimento questa cosa, il Parco di San Giovanni dal 5 luglio al 29 di agosto Tutti i martedì, tutti i venerdì, dalle ore 19 E' organizzato dalla cooperativa La Collina Bravi